L'ostruzionismo continua perché Marsilio e la sua maggioranza sono sordi alle richieste di attivare un confronto con delle risorse da stanziare per il caro bollette, per famiglie e imprese. Abbiamo ottenuto dei parziali successi sul tema dello sport e della fragilità della vita indipendente, ma chiediamo da tempo risposte sul tema caro bollette per imprese e per i cittadini e le famiglie. Abbiamo avuto intanto ragione noi, le risorse ci sono, nell'assestamento che si apprestano a votare ci sono tutte le risorse che avevamo già previsto noi, 93 milioni di euro diluiti soprattutto a partire dal 2023 e 2024 che potrebbero dare risposte a imprese e famiglie se solo Marsilio lo volesse. Invece continua ad offenderci e su questo chiediamo le sue scuse ma soprattutto continua ad essere sideralmente distante dalla comunità dell'Abruzzo.